però a te donna a me? aspetta aspetta vai un momento aspetta un attimo vita! ciao e di dimmi tutto no sto finendo la mano a scopo con gli amici dì a mamma che fra mezz'ora sto a casa va bene? ciao bello ciao che vita mia figlia l'hai chiamata vita? si ma tua socia si chiama vita? no è tutta una storia io e mia moglie quando stavamo io lì sopra lì sotto trasporto il fuoco della passione di tutte e dopo mia moglie ha cominciato a gridare che si è vita che si è vita che si è vita è rimasta incinta e allora abbiamo deciso di chiamarla vita no vabbè però pure io ho usato lo stesso criterio si te lo giuro mia moglie quando mentre stavamo l'ultima parola che ha detto è stata amore 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 poi rimasto incinto ovviamente l'ultima cosa che ha detto ah pure io ho usato lo stesso criterio con mio figlio e come l'hai chiamato? vai tranquillo posso? vai tranquillo vai tranquillo vai tranquillo vai tranquillo non è mica da mi mica da